cari amiche cari amici benvenute e benvenuti oggi in questo mi scappa la diretta voglio parlarvi di diverse cose voglio darvi alcuni aggiornamenti importantissimi che riguardano il lancio che abbiamo fatto ieri sera e tante altre cose inoltre ho pensato di avviare a cominciare da oggi ma sarà in coda nel mi scappa la diretta una nuova rubrica che si tg moneta una sorta di mini telegiornale che vi dà gli aggiornamenti minuto per minuto diciamo giorno per giorno di quello che succede al nostro grande sogno quindi tg moneta in coda a questo mi scappa la diretta poi vi vorrei parlare di un'intervista da non perdere che farò domani mattino all'aperto sotto il sole sotto il cielo al duomo di milano quindi mi raccomando rimanete in ascolto perché poi vi darò maggiori dettagli poi vi parlerò ancora dei prossimi appuntamenti che ci saranno su salvo 5.0 a cominciare da quello che dovrebbe esserci fra tre minuti di rossella fidanza sbanchiamo ma che invece faremo domani ma anche su questo vi darò maggiori dettagli poi vorrei parlare molto brevemente di questo scandalo degli oli extravergini di oliva avete sentito avete letto sicuramente la notizia e infine la notizia più importante della giornata tutto questo cari amici lo vedrete se resterete qui su salvo 5.0 con il mi scappa la diretta che comincia adesso bene allora cominciamo subito cari amici quante volte abbiamo detto ok siamo in una matrix ci troviamo in un sistema marcio in un sistema schifoso dove l'euro è un'arma impropria usata dai dai delinquenti dai criminali mafio bancari e ci guardiamo diciamo ma cosa possiamo fare ci sono tantissime cose che si possono fare un esempio per esempio è quello che hanno attivato e avviato i nostri amici di resilienza e vorrei salutare il loro portavoce diciamo così francesco neri si sono messi a zappare e a scambiarsi beni a chilometri zero bene un'altra cosa che si può fare ma ovviamente una cosa non esclude l'altra sono tutte cose che vanno insieme e quella che abbiamo lanciato ieri e cioè appunto il discorso delle monete complementari delle monete due piattaforme la rete di mutuo credito e pecus uop due piattaforme che permettono a coloro che decidono di aderire di scambiarsi immediatamente da domani mattino anzi da oggi potenzialmente dei beni e dei servizi ma di questo poi parlerò comunque nel tg moneta anche se il tg veramente solo per darvi gli aggiornamenti cioè di quanti iscritti c'era quindi permettetemi di esprimere ancora un concetto che per me è importante riguardo a questa piattaforma bene cari amici è veramente molto importante mettere in moto la fantasia chiunque di noi può diventare un fornitore di beni e di servizi accompagnare un anziano tagliare i capelli fare qualunque che ne so una ripetizione lezioni private di inglese piuttosto che di matematica eccetera eccetera cioè ognuno di noi può inventarsi qualcosa quindi è importante dopo essersi iscritti mettere degli annunci in modo tale che tutti possano vedere che c'è tizio caio sempronio disponibile a dare dei servizi in cambio di buoni questo è importante possiamo veramente noi in prima persona fare la differenza dobbiamo prenderci il futuro con le nostre mani non dobbiamo stare ad attendere che qualcuno faccia qualcosa di buono per noi perché chi di speranza vive disperato crepa comunque vi darò quindi tutti gli aggiornamenti di quante persone si sono iscritte di come sta andando la campagna della moneta la nostra moneta ecco questo è il nome che ho dato nel portale salvo 5.0 trovate proprio nel menu la nostra moneta e poi vi darò anche altre notizie che riguardano appunto questa attività andiamo oltre andiamo oltre bene allora domani cari amici domani mattino alle ore 9 e 30 farò un'intervista che secondo me sarà veramente molto molto interessante a un grande artista che si chiama paolo zanarella ecco questo è il suo biglietto da visita diciamo così il pianista fuori posto paolo zanarella io ho avuto la fortuna il piacere di incontrarlo a verona due weekend fa e lui appunto è un artista itinerante si muove in giro per l'italia e domani e per i prossimi tre giorni sarà a milano quindi domani alle ore 9 io mi regherò in piazza duomo e alle 9 30 cominceremo un'intervista in diretta naturalmente con paolo zanarella nella nella stupenda cornice del duomo di milano anzi invito chi di voi si trova in zona e può e desidera venire in piazza duomo può assistere all'intervista dal vivo lì con noi chi non può invece può naturalmente vederla domani in diretta mi raccomando non perdetevela per due motivi primo perché paolo zanarella è un artista un pianista un compositore straordinario e se andate in rete trovate anche delle notizie quello che ha fatto eccetera secondo perché anche un personaggio straordinario è veramente di una simpatia coinvolgente e lo vedrete domani quindi fare questa intervista che sarà diciamo un'altalena fra la musica e le parole le parole la musica credo che sarà qualcosa di veramente delizioso quindi mi raccomando domani non perdetevi l'intervista con paolo zanarella in diretta dal duomo di milano 9 e 30 bene poi prossimi appuntamenti allora alle 19 doveva andare in onta la rubrica sbanchiamo con rossella fidanza la seconda parte del calcolo dell'usura relativa ai mutui e oggi rossella ci avrebbe dovuto parlare del calcolo dell'usura sopraggiunta quella insomma che viene in corso d'opera e non quella da contratto che è già stata vista nella puntata precedente come voi sapete rossella è molto impegnata sul campo a dare una mano da tutte le parti perizie tribunali incontri eccetera e quindi oggi mi ha chiesto di spostare la rubrica sbanchiamo che doveva andare in onda oggi alle 19 domani alle ore 16 quindi domani grande diretta nel pomeriggio alle ore 16 con sbanchiamo di rossella fidanza un giorno meno qualche ora in ritardo vi chiedo scusa a nome mio e a nome di rossella per questo spostamento bene vorrei parlarvi adesso di questo scandalo degli oli bene credo che tutti quanti avete visto in rete che si parla che ci sono ben sette case che fanno olio che hanno organizzato questa grande tuffa questa mega truffa di vendere olio spacciato per extravergine che in effetti extravergine non è allora noi prendiamo ovviamente questo dato questo dato così com'è ok io ovviamente non ho nessun elemento in questo momento per dubitare della totale veridicità di questa notizia però un'amica su facebook mi ha detto salvo ma tu non senti puzza di bruciato riguardo a questa notizia ma possibile che guarda caso succedono tutte queste cose tutti adesso la woswagen che fa la furba sui gas di scarico delle macchine diesel adesso ben sette ditte italiane che fanno le furbe con l'olio vendendo olio spacciandolo per extravergine di oliva che invece extravergine di oliva non è eccetera 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 beh allora c'è da dire una cosa in questo momento io non ho nessun elemento per dire che questa qua sia una bufala o che sia un attacco strumentale per distruggere uno dei mercati più importanti che abbiamo qui in italia cioè quello dell'olio d'oliva c'è da dire però che ricordiamoci tutti che c'è il grosso affare xylella e questo sì che è già ampiamente dimostrato che è una grande truffa una grande presa per i fondelli da parte dell'unione europea e di tutti i mafiosi criminali che ruotano intorno a questa organizzazione per delinquere di stampo mafio bancario come tutte le multinazionali che sono legate al campo dell'agricoltura che sono legate agli oleodotti perché voi lo sapete che questo xylella è una grandissima stronzata che si sono inventati con due obiettivi perché sapete loro vanno sempre a due a due cercano di prendere sempre due piccioni con una fava e allora quali sono i due piccioni nel caso xylella beh quello di distruggere un mercato fiorente uno dei fiorell'occhiello dell'italia meridionale in questo caso la puia il salento e l'altro quello di fare spazio a questo maledetto oleodotto che dovrebbe passare proprio da quelle parti ed ecco che questo batterio xylella stranamente va a colpire alcune parti della puia mentre altre no fa così a macchia di leopardo guarda caso questo questo batterio va a passare proprio dove dove dovrebbe passare all'oleodotto ma tu guarda che strano quindi sebbene non abbia nessun elemento per dire che questo sospetto un po da complottista diciamo che mi ha fatto notare l'amica che mi ha scritto su facebook non ho nessun elemento per dire sì sicuramente come dici tu però in effetti qualche sospetto mi viene ecco quindi voglio dire stiamo guardinghi dobbiamo soprattutto noi guardare bene le etichette degli oli dobbiamo guardare il prezzo è chiaro che se io cerco di vendere un olio extravergine di oliva a 3 euro probabilmente gatta cicova ecco mentre se magari viene venduto a 7 8 9 euro probabilmente potrebbe essere un olio degno di questo nome ovviamente il prezzo non è tutto perché uno potrebbe essere ancora più disonesto e criminale quindi venderla 8 euro per farlo credere buono invece buono non è quindi ovviamente l'ideale ecco questo volevo dirvi l'ideale che amici è cercare di usare prodotti a chilometri zero per esempio ho apprezzato tantissimo un post pubblicato dai miei amici di fare verde vittoria che volevi salutare perché proprio loro mi hanno dato quest'idea e cioè quello di quella di cercare di massimizzare l'utilizzo di prodotti a chilometri zero quindi andate a cercarvi il produttore di olive vicino casa vostra magari che abbia un frantoio che conoscete andate lì mentre vi spremono le olive magari compratevi le olive e andatevela spremere oppure andate con qualcuno di cui vi fidate insomma utilizzate comunque prodotti a chilometri zero e in questo modo questa è veramente l'assicurazione migliore per evitare di comprare dei prodotti non di qualità e tornando un attimo al discorso della moneta complementare sicuramente questa è un'arma in più e a proposito di oliker amici vi dico una cosa io ho appena ordinato da un mio carissimo amico siciliano 20 litri d'olio 4 taniche da 5 litri d'olio extravergine di oliva fra l'altro biologico certificato biologico ecco per il momento non vi posso dire molto di più ma vi prometto che farò di tutto per poter fare un'intervista questo mio carissimo amico con l'intento di farlo diventare partner di salvo 5.0 come voi sapete i partner di salvo 5.0 non vengono calati dall'alto o non sono loro a chiedere a me di diventare partner ma succede il contrario sono io che vado a cercare dei partner bene questo mio amico di cui per il momento non vi dico nulla perché non so ancora se lui accetterà però per il momento io ho ordinato 4 taniche del suo stupendo olio extravergine di oliva molito a freddo e biologico certificato biologico io lo conosco perché l'ho già comprato anche negli anni passati quindi proverò quest'olio cioè riproverò quest'olio io lo prendo e glielo pago ma poi gli farò un'intervista ok proponendogli di farmi una donazione dopo l'intervista se è contento di quante persone fra di voi cari amici familiari risponderanno all'appello ecco di acquistare questo fantastico olio che viene dalla sicilia per il momento non vi dico nient'altro perché non sono ancora sicuro che lui accetti questa mia proposta ovviamente la proposta poi fa il paio con il discorso della piattaforma della moneta complementare perché se lui accetta di diventare partner di salvo 5.0 a questo punto giocoforza dovrà iscriversi alla piattaforma e quel punto anche voi potrete comprare l'olio di questo mio amico lo potete comprare anche con i buoni certo non possiamo pretendere che al tempo zero possiate comprare l'olio al 100% con buoni ma magari ci potrà essere una una percentuale minimo 20 per cento massimo chi lo sa potrà essere 30 40 50 non lo so dipende da quanto lui crede in questo progetto e quindi a quel punto potrete comprare un fantastico olio di oliva extravergine extravergine molito a freddo con olive raccolte a mano e certificato biologico a un prezzo assolutamente molto molto interessante voi sapete che gli oli certificati biologici moliti a freddo extravergini costano 14 15 16 18 euro al litro bene in questo caso qui io so già che lui è disposto a vendere un prezzo veramente molto vicino a quello non biologico a quello normale ovviamente extravergine di oliva se in più accetterà di comprarlo cioè di venderlo anche accettando una parte di buoni beh cari amici abbiamo fatto veramente bingo quindi tenetevi pronti perché sto diciamo giocando le mie carte sai come si dice le mie parti come una lima surda come una lima sorda letteralmente cioè una lima che fa rumore ziki 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 facendo finta di essere sordi in modo tale proprio da prendere per stanchezza ecco l'avversario ovviamente messo per fra virgolette quindi se riesco a convincere quest'amico a fare questa cosa ragazzi festeggeremo bene a questo punto direi che posso partire con la notizia più importante di oggi e poi partiamo con la prima puntata del tg moneta anche per oggi cari amici vi ricordo che la notizia più importante in assoluto è quella che riguarda la morte di 35 mila esseri umani per fame 35 mila persone che purtroppo muoiono tutti i giorni per mancanza di cibo mentre ci sono 1 2 3 miliardi di persone sicuramente un miliardo un miliardo e mezzo di persone che veramente sprecano che addirittura rischiano la vita perché mangiano troppo oltre che male mangiano troppo e male e invece ci sono persone che muoiono per mancanza di cibo ecco questa secondo me è una vera assurdità e noi dovremmo fare qualcosa e possiamo fare qualcosa per combattere questa assurdità le cose che possiamo fare sono veramente tantissime a cominciare dallo stile di vita dallo stile alimentare dal ritornare a una cultura locale a chilometri zero agli scambi solidali eccetera eccetera quindi vedete che alla fine le cose sono tutte collegate bene allora a questo punto che nemici permettetemi di fare 5 secondi di pausa per bloccare la registrazione e poi ripartire perché poi qui parte il tg moneta anzi permettetemi ancora un minuto perché a questo punto vorrei anche cambiare il titolo vorrei prepararmi a cambiare il titolo ecco qua perfetto perfetto sono pronto cari amici allora io a questo punto vi saluto ma solo per 5 secondi e poi torniamo con il tg moneta ma solo per 5 secondi e poi torniamo con il tg moneta ma solo per 5 secondi e poi torniamo con il tg moneta ma solo per 5 secondi e poi torniamo con il tg moneta